Allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui davanti alla nuova macchina. In realtà ce l'ho già da circa un mesetto e mezzo, aspettavo il momento giusto per presentarvela e per farvi un po' una recensione, insomma darvi le mie opinioni sia sull'aspetto estetico, meccanico e funzionale e poi vedremo, faremo anche un video alla guida. Lo divideremo in due, quindi questa è la prima parte e poi ci sarà la seconda parte alla guida. Ma di che macchina sto parlando? Ovviamente una Ford Focus, lo vedete bene dal logo. La Ford Focus è matricolata nel 2020, quindi non l'ultimissimo restyling di quest'anno in particolare, ma quello di un paio d'anni fa. Non cambia tantissimo, bene o male le differenze sono veramente poche, soprattutto estetiche, più che altro sono differenze funzionali a livello di infotainment. È stato un po' modernizzato e vediamo un po' come è fatta questa macchina e un po' le mie opinioni sulla parte estetica, carrozzeria e interni. E allora, questa è la parte anteriore di questa nuova Ford Focus. La macchina è ben proporzionata, è lunga circa 4,40 m, 4,39 m per l'esattezza, per una larghezza di 1,84 m circa. Quindi è una macchina molto larga, lo si vede anche dall'estetica, quindi proprio dalle sue linee. La macchina è anche molto bassa, diciamo è una tipica segmento OC, ormai di questi ultimi anni. Sono cresciute in dimensioni anche rispetto alle prime serie di Ford Focus. Questa nuova si è allungata, si è allargata parecchio e ne beneficia ovviamente anche l'abitabilità interna, la comodità interna, lo spazio per passeggeri e bagagli. Ma ora approfondiremo un po' meglio. In questa versione i fari sono dei semplici fari halogeni, però con lampadina bianca. Quindi non abbiamo in questo caso dei proiettori Matrix LED o Full LED come nei modelli più nuovi o nei modelli super accessoriati, sempre di questa serie Ford Focus. Ma è presente una firma luminosa LED che ha questo profilo qui molto bello esteticamente. I fari comunque illuminano molto bene la strada, non danno alcun problema diciamo nella guida. La griglia in questo caso con questa forma un po' esagonale tipica dell'allestimento ST-Line. Qui vediamo il radar per sistemi di assistenza alla guida e i sensori di parcheggio anteriori. Allora come vedete sono presenti i fendi nebbia in questa versione qui, ormai non sempre sono presenti. I sensori di parcheggio laterali diciamo in questa parte qui sono ben nascosti e ben affogati in questa parte in plastica, molto bellina. E qua abbiamo dei canali d'aria, dei passaggi dell'aria che sono aperti, se riuscite a vedere lì esatto, che quindi non sono prese d'aria finte, ma queste non sono prese d'aria ma sono dei tunnel aerodinamici che riescono a ridurre le resistenze aerodinamiche schermando con l'aria che esce in questo punto, schermando la parte della ruota, riducendo quindi le turbolenze nella fiancata dell'automobile. La linea è molto molto sportiva, il profilo laterale è davvero ben riuscito secondo per me, per i miei gusti, per i miei gusti personali. Questa linea che taglia in due la carrozzeria qui e poi tende ad allargarsi in questo punto qui ad entrare più evidente e più marcata con questa rastremazione della carrozzeria molto bella. C'è questa raccordatura in plastica che aiuta sempre a ridurre le turbolenze aerodinamiche nella scia e questo piacevole alettone che non è uno spoiler che ha funzioni di deportanza ovviamente andate a vedere il video che ho fatto sulla deportanza e sull'effetto suolo, molto interessante ma questo semplicemente aiuta a far defluire i flussi in maniera molto costante quindi aiuta a separare in maniera perfetta e ideale il flusso d'aria sopra la carrozzeria e come vedete integra anche la luce di stop superiore, molto bella la parte posteriore di questa vettura. A differenza del modello precedente i fari in questa versione sono sviluppati in orizzontale non più in verticale come tutte le focus precedenti dalla prima alla terza serie questa è la MK4 e il 1.8 è molto piccolo quindi la visibilità interna un po' ne risente ovviamente ma come vedete è presente la retrocamera con una buonissima risoluzione e visibilità anche notturna le linee si muovono assieme al volante quando si sterza e questa è una caratteristica di tutte le auto moderne di ridurre la visibilità ormai è una costante anche qui è presente il nuovo logo, la nuova scritta Focus completamente rinnovata nell'estetica molto bella, molto moderna e in questa versione ST line sono presenti appunto questo specie di estrattore in plastica ovviamente non è un estrattore, vero, molto bello esteticamente col doppio terminale di scarico vero quindi non è un terminale finto come ci si è abitati a vedere in moltissime case automobilistiche che personalmente davvero odio, non apprezzo in maniera assolutamente no da evitare e come vedete qui è presente l'uscita, la forma dell'uscita perché questo è molto simile alla versione ST probabilmente con 280 cavalli, probabilmente sarà lo stesso perché è sagomato per un'uscita a 4 scarichi che è tipica della versione ST più potente e le dimensioni dei pneumatici, questi sono ancora dei pneumatici di serie sono dei pneumatici 215 50 barra 17 la spalla è molto alta, effettivamente un po' in curva si sente l'effetto spalla un po' lo scivolamento esterno di questa parte della gomma che ovviamente più è alta, più è morbida, più tende a deformarsi durante le curve ma allo stesso tempo proprio quest'altezza qui garantisce un ottimo comfort infatti la macchina di serie, la Settiline è un assetto che è ribassato di circa un centimetro e anche irrigidito, quindi non è lo stesso assetto delle altre versioni però nonostante tutto con questi pneumatici si riesce ad avere comunque un grandissimo comfort sulle buche qui in Sicilia, ce ne sono tante, non si risente sulla schiena, al sedile e soprattutto non si rischia di danneggiare questo cerchio che è molto bello, sarebbe un peccato queste gomme di serie sono i Michelin Prima C4, non mi fanno impazzire probabilmente quando si consumeranno le cambierò con dei modelli leggermente più sportivi perché tendono a scivolare parecchio, soprattutto in accelerazione, in uscita di curva ma poi ne parlerò meglio alla guida come qualità costruttiva ovviamente la macchina non è un segmento premium e non vuole esserlo al pari di BMW, Mercedes, Audi magari anche se effettivamente come qualità interna anche questi marchi sulle macchine più piccole quindi sulle base di gamma, su certe cose lasciano veramente un po' a desiderare tuttavia ci sono alcuni accorgimenti che sono interessanti cioè la qualità percepita non è così distante da una qualità di un marchio premium ovviamente prendete con le pinze questa affermazione ovviamente sempre parlando di una macchina comprata un prezzo di circa 20.000 euro, 19-20.000 euro mi riferisco per esempio alla guarnizione attorno alla bocca di apertura del cofano i fari sono molto belli gli accoppiamenti sono abbastanza stretti, abbastanza regolari per essere diciamo una macchina con un costo del genere allora le portiere hanno un buon sistema di guarnizioni oltre a questo labbro qui insonorizzante che va proprio a contatto con la parte più esterna della battuta della porta poi è presente questa grossa guarnizione qui che fa il giro di tutta la portiera e anche la guarnizione giù in basso quindi che diciamo va a coprire questa zona qui quindi tutto sommato la qualità costruttiva davvero niente male lo sportello presenta delle plastiche che sono morbide al tatto in questa zona qui questa zona in plastica è rivestita in tessuto quindi non è plastica dura quindi è anche un po' imbottita, è davvero comoda altra chicca, gli spazi qui nella portiera i vani nella portiera sono rivestiti con della moquette quindi gli oggetti che mettete dentro non ballano se ballano comunque non fanno rumore questa parte qui ovviamente è in plastica rigida come siccome questa parte qui ma questa è una costante in tutte e davvero in tutti i modelli delle macchine attuali però le plastiche sono morbide e questa è davvero una gran cosa le maniglie sono in alluminio sono molto belle anche la forma è molto bella abbiamo i pulsanti per attivare e disattivare le sicurezze della portiera gli alzacristalli elettrici il comando per chiudere e aprire i finestrini che sono elettrici e i pulsanti per la regolazione elettrica degli specchietti poi è presente questo inserto con questa diciamo texture va a simulare un po' il carbonio molto bello esteticamente la si trova anche all'interno al centro del cruscotto e allora sediamoci all'interno vediamo un po' com'è fatta la vettura allora avete sentito il rumore della portiera è un rumore abbastanza sordo abbastanza attutito non mi dispiace un difetto che ho riscontrato è che c'è qualcosa che vibra in questa portiera qua dentro lo sento sia durante la chiusura della porta soprattutto anche durante l'ascolto di musica con bassi e particolari frequenze già a livelli di suono anche basso, moderato già si sente una vibrazione davvero fastidiosa e questo lo farò presente poi quando dovrò fare il primo tagliando per magari una sciocchezza riuscire ad andare a risolverlo allora come vedete la posizione di guida è davvero stupenda per me è comodissima io sono alto 1,90m ho ancora spazio alle mie spalle per far scorrere ancora di più il sedile se volessi quindi una persona di qualunque statura davvero riesce a trovare la sua posizione di guida ideale lo schienale è davvero comodo regge molto bene la schiena sono appoggiato con le spalle anche con la testa in posizione di marcia di guida e le gambe sono abbastanza distese e riesco con la regolazione in profondità ad essere col volante davvero alla distanza corretta dal petto e quindi avere un'ottima posizione di guida come vedete l'interno della versione Settiline è caratterizzato dal volante in pelle molto molto comodo con questa bellissima impugnatura in pelle traforata e qui in pelle liscia c'è questa cucitura rossa che viene richiamata anche in tutto l'abitacolo sia sul pomello del cambio e soprattutto anche nei sedili che sono in tessuto abbastanza comodi abbastanza contenitivi niente di eccezionale ma fanno il loro dovere altra chicca di questa versione è che il cielo della vettura è completamente nero e questo la rende davvero davvero più bella esteticamente le luci di cortesia all'interno dell'abitacolo sono a led a led bianco ed è presente un tasto SOS da premere in caso di emergenza qua sono presenti i microfoni per le chiamate col bluetooth funziona davvero molto bene la pedaliera è in alluminio molto bella comoda si riesce anche a fare il puntatacco con delle scarpe non troppo piccole i comandi al volante sono tanti qua abbiamo i comandi o per cambiare canzone o per rispondere alle eventuali chiamate qua abbiamo i tasti che consentono di visualizzare le informazioni sul display ora accendiamo il motore così vi faccio un po' vedere mettiamo in folle il quadro strumenti è davvero molto semplice non ha un quadro strumenti digitale interattivo ma presenta i due strumenti con le lancette che a me personalmente piacciono in temperatura dell'acqua del motore a livello del carburante semplicemente qui uno schermo non a colori che consente di visualizzare un po' di informazioni l'altra parte del volante è dedicata ai comandi del volume al mutuo e poi al cross control della vettura molto semplice non è un cross control adattivo è un cross control normalissimo molto semplice da questo pulsante qui è possibile attivare o disattivare l'assistenza dell'automatica alla carreggiata che funziona molto bene nonostante sia un sistema molto semplice agisce sul volante e non sui freni quindi sterza automaticamente il volante non segue la corsia sfruttando i freni che è una cosa molto fastidiosa ma vi aiuta a correggere traiettorie col volante che si muoverà da solo se non mettete la freccia ovviamente nel caso dovesse fare un sorpasso lui darà un po' di forza di ostacolo però riuscirete comunque a effettuarlo se vi scordate di mettere la freccia e fare un sorpasso comunque con la forza delle braccia ovviamente riuscite a contrastarlo però ricordatevi di attivare la freccia sia inizio sorpasso che fine sorpasso per evitare delle resistenze inutili sul volante il climatizzatore un climatizzatore manuale semplicissimo senza fronzoni davvero regolazione della velocità della ventola della temperatura area condizionata on off ricircolo e posizioni dell'aria uscita dell'aria davvero niente di più semplice il pulsante le quattro frecce è qui davvero a portata di mano questi tasti fisici sono davvero molto apprezzati per l'uso dello schermo lo schermo non è integrato in maniera bellissima all'interno della plancia tuttavia fa il suo dovere abbastanza in alto quindi almeno è molto ben visibile senza distrarsi troppo il sistema multimediale non è un sistema multimediale così di ultima generazione ovviamente fa non è un sistema all'ultimo grido è un sistema di due anni fa forse la nuova vettura in questo è migliorata tanto la nuova versione comunque ha la radio DAB le sorgenti bluetooth, DAB, FMM il telefono funziona molto bene la navigazione interna Ford devo dire funziona bene risultato affidabile nei test che ho fatto app cellulare insomma comunque consente di fare un po' di tutto io lo uso anche con Android Auto col mio telefono Xiaomi funziona molto bene non ho riscontrato particolari problemi appena attacco col cavetto USB qui c'è una porta disponibile molto spazio per lasciare il telefono si attiva senza problemi funziona davvero bene scendendo qui accanto al pomello del cambio abbiamo il tasto per attivare o disattivare lo start e stop automatico disattivare il controllo di trazione e la modifica delle mappature le mappature possono essere standard la normal con cui si accende la macchina ogni volta anche se voi la cambiate la macchina si riaccenderà modalità normal modalità eco che davvero riduce tantissimo le brusche accelerazioni quindi è perfetto da usare in città ma non l'ha usata in autostrada perché probabilmente riduce un po' anche la potenza erogata al motore e soffre un po' di più la macchina e quindi tende a consumare un po' di più e poi questo è il tasto per disattivare i sensori di parcheggio non vi ho detto che il motore è un 1000 1300 cilindri 125 cavalli Ford pluripremiato motore 1000 quindi con downsizing turbo iniezione diretta è la prima volta che guido un motore del genere e davvero mi sto ricredendo sulla bontà di questi motori cioè non mi sto ricredendo ma mi sto convincendo che possono fare al caso di davvero molte persone ma questo ve lo approfondiremo di più nel video che faremo alla guida quindi non vi spoilerò niente adesso qui al centro è presente il tasto per l'interruttore del freno a mano elettrico che non è una cosa che apprezzo particolarmente però è così c'è in questo momento così si disattiva premendo ma in questo momento non me lo fa disattivare perché non ho il freno premuto il pedale del freno quindi questa è una una cosa di sicurezza ovviamente e questo tasto che consente di avere l'auto hold c'è l'ill holder c'è negli stop si ferma in salita si rimane frenata la macchina per consentirvi di ripartire poi è presente un piccolo spazio gommato quindi non fa abbastanza rumore per deporre le chiavi qui con questa tendina c'è un grande spazio qui sotto e questa questo fa parte del kit fumatorio ovviamente non mi interessa è presente un led un'illuminazione a led qui all'interno molto carina il bracciolo centrale è davvero spaziosissimo ha due ripiani questa botola è davvero enorme soprattutto rivestita in pelle è molto comodo e può essere regolato avanti e indietro davvero comodissimo nei viaggi in autostrada se devo dirvi una cosa che non mi è piaciuta ad esempio all'interno è l'impianto multimediale mentre so come feedback resa acustica dell'impianto audio da una macchina del genere di questo segmento mi aspetterei sempre qualcosa in più in realtà il volume va da 0 a 30 ma già dai 15-16 in poi sostanzialmente non si avverte quasi alcuna differenza quindi le casse già raggiungono nel loro massimo già a metà del volume e soprattutto non è una qualità così eccezionale ci sono anche delle vibrazioni nelle portiere segno che comunque l'insonorizzazione non è magari stata fatta a regola d'arte all'interno delle portiere magari risolverò personalmente sistemando questa faccenda cambiando le casse altoparlanti magari più in là vi terrò aggiornati altra cosa che mi stavo scordando di dirvi è che tutta questa parte della plancia è in plastica morbida anche questa parte del cruscotto comincia a diventare rigida soltanto qui dove c'è la console del climatizzatore e qui il tunnel centrale e adesso andiamo a vedere i sedili posteriori l'abitabilità di questa macchina è davvero incredibile considerate che davanti il sedile è regolato per una persona della mia statura quindi stavo guidando io e sono alto un metro e novanta se provo a sedermi qui come vedete lo spazio è davvero abbondante rimane uno spazio enorme il sedile è anche un po' incavato qui non è molto spessa la struttura del sedile quindi consente di far stare un'altra persona di un metro e novanta senza troppi problemi io mi sono seduto qua ovviamente tocco con le ginocchia ma se ritiro un po' indietro i piedi riesco ad avere anche un po' di libertà non sbatto la testa come vedete rimane anche altro spazio e tutto sommato un ambiente abbastanza confortevole non sono presenti bocchette di ariazione non è presente porto usb questo ovviamente è una cosa negativa è solo presente una porta a 12 volt dovreste comprare voi l'inserto da mettere qui con le porte che vi servono i sedili hanno una retina qui porta oggetti anche le porta oggetti qui le portiere posteriori sono rivestiti quindi ottimo anche qua non faranno rumore gli oggetti che metterete qui sono presenti per la gioia dei passeggeri quattro maniglie per appendersi per reggersi anche le luci posteriori sono a led e il tunnel centrale non è così ampio così alto come vedete qui quindi anche un passeggero se mi metto al centro io che sono sempre molto alto comunque tutto sommato riesco a starci ovviamente qui il sedile essendo un po' rialzato mi fa sbattere la testa in questo caso sono presenti gli attacchi isofix su entrambi i sedili posteriori sono a vista qui quindi davvero molto comodi se avete un passeggino sono molto comodi andreste andare a cercare i ganci si trovano velocemente i sedili sono abbattibili in modalità 60-40 manualmente premendo questi tasti se lo abbattete direttamente così si crea diciamo un fondo non piatto perché rimane questo scalino e andiamo a vedere il bagagliaio il bagagliaio ovviamente rispetto ad alcune competitor è un po' più sacrificato se non sbaglio per esempio la Volkswagen Golf fa meglio come capacità dichiarata il bagagliaio consente di fare un viaggio tranquillamente in un paio di persone ad alloggiare l'occorrente senza particolare difficoltà è tutto rivestito in moquette ci sono dei ganci qua abbastanza spartani per agganciare le vostre buste questi ganci in plastica questa parte molto diciamo molto rigida non particolarmente pregiata e qui è presente uno scalino abbastanza ampio quanto una mano più o meno tra la superficie qui di battuta della portiera e il fondo poi se alziamo è presente l'amatissima ruotino di scorta molto meglio dei kit di foratura ormai questi stanno scomparendo ma questi continuano a preferirli perché se vi si distrugge lo pneumatico dovreste chiamare il carattrezzo inutile provare a gonfiarlo invece così soprattutto per chi fa tanta autostrada possono capitare queste situazioni in meglio il ruotino comunque questo è un ottimo vano per appoggiare anche altra roba guanti cose del genere non c'è uno spazio per tenere il cric diciamo il vano bagaglio qui la luce è alogena non è a led potevano sforzarsi un po' di più diciamo non è niente di particolare non è rifinito benissimo il gancio anche a vista qui però tutto sommato diciamo fa il suo dovere in più vi segnalo queste due maniglie qui sul portellone molto comode da entrambi i lati per poterlo chiudere allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto la mia prima recensione di una vettura di una macchina è la mia lasciatemi commenti per qualunque consiglio errori che ho fatto diciamo scatenatemi il box dei commenti se vi è piaciuto il video condividetelo e ci vediamo al prossimo appuntamento dove invece vi parlerò più dell'aspetto meccanico di guida prestazioni e come va questo motore 1.3 cilindri turbo ciao a tutti